Combatti per trovare il drago, Simu Liu, il drago dei dieci anelli, Simu Liu Ragazzi ho appena visto Shang-Chi o come direbbe Simu Liu Wabalabadabdabe bentornati su Nomamamazzo bentornati nella rubrica film in uscita e nella rubrica Marvel Settimana ricca, mi ci ficco, oggi non sono, oggi, sta settimana non sono riuscito a star fermo un attimo Video su video su video, però sono molto felice di poter parlare anche di Shang-Chi Un film su cui molta gente non aveva hype, io al contrario ho più hype, ho avuto più hype per Shang-Chi Che non per esempio per Eternals, io non ho assolutamente hype Perché fondamentalmente a me i film sulle arti marziali mi piacciono Poi è capitato che sono andato al cinema e ho visto Shang-Chi Ora, adesso per citare un altro maestro di arti marziali, anche se quello è un personaggio giapponese Il maestro Miyagi di Karate Kid Cito una sua frase per farvi capire che la mia poca conoscenza di Shang-Chi potrebbe aver, come si dice, alterato la mia esperienza visiva Ovvero, se tu conosci Shang-Chi va bene, se tu non conosci Shang-Chi va bene, se tu conosci Shang-Chi così così non va bene Prima di iniziare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video Un non mi piace e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che conoscono le arti marziali E di commentare qui sotto con quello che viene apparso a voi di questo film, di questo video E seguitemi anche sugli altri miei social che oltre a vedere passare qua sotto davanti allo schermo Potete anche trovare qua sotto in descrizione come link cliccabile insieme a tanti link Amazon che ogni tanto metto Dove potete fare acquisti, sbizzarrirvi eccetera eccetera Allora, come ho detto all'inizio, la mia conoscenza del personaggio di Shang-Chi purtroppo, purtroppo Si limita alle sue apparizioni nei fumetti della Marvel che io leggevo che sono di altri personaggi Principalmente l'uomo ragno Io conosco Shang-Chi nei suoi camei che ha fatto nell'uomo ragno Per esempio quando l'uomo ragno ha perso il suo senso di ragno e ha chiesto a Shang-Chi di essere allenato per poter operare comunque come supereroe senza farsi ammazzare Shang-Chi gli ha insegnato qualche dritta sul Kung Fu Perché comunque Shang-Chi è potente al punto da percepire il ki, percepire l'aura dei suoi avversari Un po' come Dragon Ball, ma poi vedremo bene tutto il resto E quindi gli ha insegnato questa cosa Un'altra conoscenza che avevo di Shang-Chi è che era un comprimario, comunque una persona che faceva coppia con Pugno d'Acciaio, Iron Fist Che abbiamo visto nella sfortunata serie Marvel Netflix Che poi ha avuto anche un crossover con Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage in Defenders Ecco, Shang-Chi è un personaggio che è definito maestro del Kung Fu Pensate che nel fumetto è comunque bravo nelle arti marziali, ma è comunque inferiore a Pugno d'Acciaio Pensate un po', quindi io nella mia conoscenza di Shang-Chi, ma nella mia scarsa conoscenza di Shang-Chi Mi aspettavo di andare al cinema e vedere una storia un po' più urban, un po' più urbana Un po' più, sì, combattimento, che l'ho visto anche dal trailer Combattimento padre figlio, il padre era quello che potremmo definire il vero mandarino Quindi il padre comanda una sorta di mafia cinese da millenni che, vabbè E lui sta cercando di scappare dalle orme del padre, il padre l'ha trovato E vabbè c'è questa lotta, mi aspettavo un elemento magico che sono i dieci anelli Che appunto il mandarino, il nemico di Iron Man, nei fumetti indossa proprio alle dita Sono proprio fisicamente dieci anelli e effettivamente questi dieci anelli hanno dei poteri sovrannaturali E mi aspettavo che ci fosse un elemento sovrannaturale che era situato nei dieci anelli e basta Invece l'elemento fantasy è davvero preponderante, è graduale, è sempre più graduale Ma dall'inizio del film alla fine del film passiamo da un ragazzo che fa il parcheggiatore a Dragon Ball Z Davvero mi è sembrato di vedere una versione riuscita di un film di Dragon Ball Quanto meno più riuscita di Dragon Ball Evolution dove però davvero a un certo punto Dici ma cazzo è un film sul Kung Fu Perché tutti emanano raggi dalle mani e volano Cioè troppo, troppo, troppo È stato dall'inizio alla fine un intero, chiamiamolo omaggio, un intero immergersi in tutta, tutta la cultura, la mitologia cinese L'hanno presa, l'hanno sbattuta in questo film Che appunto può essere visto come un grande omaggio appunto alle loro tradizioni Spero, per il popolo cinese, che non sia visto invece come un enorme stereotipo È chiaro, è palese che l'operazione nasce commercialmente Perché come ho detto prima, Shang-Chi è un personaggio minore persino rispetto a Iron Fist Iron Fist ha avuto una sfigatissima serie su Netflix Shang-Chi ha un film stand-alone dal budget hollywoodiano Questo perché? Perché la Disney, che è il topo malefico Praticamente ha visto il successo di Black Panther Ha visto la simbologia che Black Panther ha dato alla popolazione africana La popolazione afroamericana anche E ha voluto mettere i suoi artigli da topo anche nel mercato asiatico Si sa, il mercato asiatico è un po' più chiuso Hanno delle tradizioni, un orgoglio diverso Ma è anche un mercato molto remunerativo Parliamo di un miliardo di persone E quindi hanno voluto dare una sorta di Black Panther Anche alla popolazione asiatica Quindi hanno creato, hanno preso un personaggio minore Dell'universo Marvel e ci hanno fatto questo filmone Buttandoci dentro di tutto Ora io spero che l'entusiasmo stesso del protagonista Che è Simu Liu Che ha voluto a tutti i costi essere lui il protagonista appunto di questo film Mi fa presupporre che tutto quello che io ho visto Che per me è sembrato troppo Magari sia stato solo un grande omaggio Alla cultura tradizionale Alla mitologia cinese E a tutte le loro tradizioni fantasy Però devo dire che a un primo impatto Per me è stato davvero un gran minestrone da vedere Visivamente molto bello Però soprattutto col passare dei minuti Specialmente verso la fine È diventato davvero davvero troppo Troppo fantasy per un film sulle arti marziali Io per esempio i miei film di arti marziali preferiti Sono i primi di Jackie Chan Primi, quelli degli anni 90 Già gli ultimi dove c'è il medaglione Lo smoking Tutte queste robe un po' pseudo fantascientifiche Dove si mischiano arti marziali e fantasy Non mi piacciono molto A parte Kung Fusion Che è chiaramente Volutamente parodistico e sopra le righe Devo dire che però Prima di fare la recensione E dire castroneria O sputare sentenze Su cose che non conosco completamente Comunque mi sono informato E ammetto che Nel mondo di Shang-Chi Nel fumetto stand alone di Shang-Chi Tutti gli elementi che abbiamo visto nel film Ci sono Sono presenti Semplicemente li abbiamo visti tutti insieme In un unico film Però è vero che Shang-Chi Ha una sorella Che è una sorellastra Con cui combatte Vediamo appunto Che il padre Che Nel fumetto Fu Manchu Poi gli hanno cambiato nome Qua hanno giocato un po' con questa cosa Dopo l'andiamo a vedere Quindi è un padre che ha avuto tanti nomi Anche perché Ha una lunga fama di criminalità millenaria Quindi anche questo elemento c'è nel fumetto C'è nel fumetto il fatto che lui Sia così potente da gestire e percepire il Chi Quindi soprattutto nelle scene finali Dove fondamentalmente lo vediamo gestire i dieci anelli Come se fossero delle onde energetiche Anche lì ok ci può stare Però è stato un po' esagerato Quindi direi che in generale come film Ci può anche stare Ma abbiamo visto in due ore e quindici Quello che potevamo vedere davvero in una trilogia Io l'avrei preferita Tutta questa roba che ho digerito in queste due ore e quindici Avrei preferito vedermela In modo un po' più graduale In tre pellicole separate A distanza di un paio d'anni l'una dall'altra Perché va bene tutto Però Siamo comunque nel Marvel Cinematic Universe Che per quanto è diventato super fantastico Nel senso che Dove il fantasy ormai regna sovrano Ci sono comunque delle regole Che non sono ancora state superate E se vengono superate Sarebbe carino spiegarle Cioè perché coesistono i draghi della tradizione cinese Le leggende dei draghi della tradizione cinese Esistono in un mondo Dove esiste Thanos Dove esistono gli Eterni Dove esistono i Devianti Che non... Cioè Tanta roba Ma parliamo anche di tutti gli elementi Che si collegano A Marvel Cinematic Universe Ai vecchi film del Marvel Cinematic Universe Che si legano a questo film Per cui sono andato a vedere questo film Oltre al fatto che mi piacciono le arti marziali Partiamo con il personaggio del mandarino E dei dieci anelli Nel fumetto il mandarino è il nemico La nemesi di Iron Man E possiede dieci anelli Fisicamente dieci anelli Che gli danno un potere Anche proprio appunto quasi magico Un potere fisico e magico Davvero temibile Possono anche ricordare vagamente Indossare dieci monili sulle mani Che ti danno potere Possono ricordare le gemme dell'infinito Ovviamente non a quel livello Anche perché il mandarino è un essere umano Quindi se indossasse il guanto dell'infinito Farebbe la fine di Tony Stark Però Diciamo che È una versione un po' minore Un po' per umani Delle gemme Che danno del potere Questi dieci anelli Qua Gli anelli sono Tecnicamente Sono dei bracciali Poi il motivo Secondo me Il motivo che Mi fa presupporre Che siano diventati dei bracciali Al di là del motivo estetico Poi ve lo spiego dopo Quando parlo di Shang-Chi Ci può stare Nel senso che Gli anelli Sono Delle cose rotonde Cioè come Yurike Chi sta sugli anelli Non è che sta su dei bracciali Gli anelli sono grossi così Quindi ci sta che sono Chiamati anelli Perché sono anelli E lui se li infila sul braccio Però nel momento in cui Delle infili sul braccio Diventano Dieci braccialetti E Vabbè Però vabbè Fa niente Chi se ne frega Tanto per quello che ho visto È già tanto Che non fossero Dieci sfere del drago I dieci anelli Nel Marvel Cinematic Universe Sono anche Il nome Di una sorta di Organizzazione Terroristica Che Nel lontano 2008 Ai tempi di Iron Man 1 Aveva appunto Rapito Tony Stark Per fargli costruire Un missile Un missile Dal nome Jericho Ora Parte l'incongruenza Del fatto che Vediamo Questa persona Chiamata Mandarino Che Era associata persino A Gengis Khan Che con i suoi I soli anelli Riusciva a sfidare Le armate Le armate La stessa organizzazione Che aveva rapito Tony Stark In Iron Man 1 È solo Neanche accennato È solo Intuibile È intuibile Dal fatto Che questo Mandarino Costruisce Cioè costruisce Un impero Attraverso i secoli Quindi si può intuire Che tra le sue Varie dinastie Ci sia anche Questa Diciamo Questa Fazione terroristica Che Voleva appunto Cioè diciamo Era stata incaricata Di rapire Tony Stark Ci può stare C'è invece Un riferimento Molto più ampio Al mandarino Di Iron Man 3 Che come tutti sappiamo È stato un po' Un colpo di scena Per i cinefili Un'eterna delusione Per i fan del fumetto Per i fan Marvel Ovvero Il mandarino Non era davvero Un mandarino Ma era un fantoccio Una persona Un figurante Messo lì Da Da Killian Se non sbaglio Si chiamava Per mettere in scacco Il governo americano E fare in modo Che l'eterno gioco Della domanda E dell'offerta Agli armamenti Si facesse Più Più costosa Ora c'è stato Un bellissimo corto Che se riesco a trovare Ve lo metto qua sotto In descrizione Dove mostrano L'attore Trevor Slattery Interpretato da Ben Kingsley Che appunto È l'attore Che interpretava Il finto mandarino C'è un fantastico corto Dove I dieci anelli Vanno in prigione A trovare Trevor Slattery E lo fanno uscire Di prigione Perché incontri Il vero mandarino Che presumibilmente Lo avrebbe ucciso Qua vediamo Trevor Slattery Vediamo che è ancora vivo Che è in stato di prigionia Dal vero mandarino E che per qualche ragione È ancora vivo Perché lo tengono Come giullare di corte Ora Francamente Di tutto questo Per quanto io adoro Ben Kingsley Il personaggio Di Trevor Slattery Anche alla luce Del fatto Che sappiamo più Che non Sappiamo che non è Il vero mandarino Che è semplicemente Un attore Eccetera Eccetera È davvero un personaggio Che a me dà fastidio Cioè È un personaggio Che A cui non darei Più di un minuto Di screen time E lo abbiamo Praticamente visto Per tutto il secondo tempo Del film Come linea comica Diciamo Insieme all'amica Di Shang-Chi Insieme a Ketty C'era questa seconda Linea comica Che però davvero Per me È insopportabile Avrei preferito Un accenno Semplicissimo È tutto lì Nient'altro Non Nonostante sia stata Un po' la chiave Di volta Che gli abbia aiutati A procedere Nella storia Davvero È un personaggio Che non riesco A sopportare Il nome stesso Mandarino Si temeva che Venisse preso Come un insulto Alla Alla cultura cinese Perché appunto Dare il nome Di un personaggio Totalmente negativo Di un terrorista Dare il Il nome Mandarino Che è Una delle lingue Come si dice Più usate O forse anche La lingua più antica Della Cina Era un insulto Per la popolazione cinese Si temeva addirittura Che la Cina Non distribuisse Il film Per questa cosa Sono riusciti Con un escamotage Molto abile A far capire Che il nome Mandarino Non è Mai stato Autoattribuito Dal mandarino Stesso Il nome Mandarino È stato inventato Proprio Da Da Trevor O comunque Da Da Killian Murphy In Iron Man 3 Hanno proprio Creato Un personaggio Che Si chiamasse Mandarino Che minacciava Iron Man E minacciava Il governo Statunitense Ma quello che dico io Se quello Non era davvero Non era nemmeno Davvero il tuo nome Perché Prendersi la briga Di rapire Trevor Slattery E metterlo in prigionia O addirittura Ucciderlo Perché hanno citato I dieci anelli Ok ma Mi sembra Davvero Un Buco di trama Ormai Non lo so Secondo me ormai Il Marvel Cinematic Universe Inizia davvero A faticare A A tenere tutti I fili Della ragnatela Coesi Senza Pestare una merda Ecco Scusate La metafora Un po' sporca Aggiungiamoci Che Il Diciamo La mentalità Americana Sul Kung Fu E E Sempre Molto Esagerata Cioè Gli danno Sempre Un'aura Di soprannaturale Ah conosce il Kung Fu Quindi fa tutte le robe così Muove le foglie Tipo la tigre Il dragone No Che per carità Fì bellissimo Però Tutte queste cose qua Ok Ma Cazzo Shang-Chi È uno Dei Degli eroi Dei pochissimi Eroi Marvel Non avere Superpoteri Come il punitore E gli dai Questa sorta Di Kung Fu Che è quasi magico Lo fai sembrare Un cazzo Di Goku Perché Cioè Rovini La bellezza Del fatto Che lui Con la sola Conoscenza Delle arti marziali Riesca A tenere testa A tutto Quello Che abbiamo visto Sempre con sta cosa Del Kung Fu Magico Non è magico Il Kung Fu È talento È tecnica È dedizione Tutte cose Che io non ho Tornando ai dieci anelli Indossati Da Shang-Chi Mi fanno pensare Che appunto Abbiano deciso Di usare Dei bracciali E non degli anelli Proprio perché appunto Alla fine del film Dieci anelli Li tiene Shang-Chi E Shang-Chi nel fumetto Indossa Dei bracciali Addirittura Nel Diciamo Nel tempo presente Sono stati anche potenziati Da Iron Man Questi bracciali Per poter Utilizzare al meglio La sua forza Per poter Utilizzare al meglio Il suo ki Di conseguenza Questi anelli Bracciali Indossati Da Shang-Chi Possono essere Un riferimento Ai bracciali Che Shang-Chi Indossa Nei fumetti Per combattere Quindi potrebbe essere Questo il motivo Ultima cosa Le occasioni sprecate Perché Per qualche ragione Che adesso Francamente mi sfugge Onestamente Mi dà anche un po' fastidio Le serie Netflix Le serie Marvel Netflix Sono state Decanonicizzate Penso perché Non si possono usare Le origini Netflix Nel Marvel Cinematic Universe Vabbè Non lo so Fatto sta che È stata un'occasione Sprecata Questa Per introdurre Dei personaggi Nel Marvel Delle serie Netflix Nel Marvel Cinematic Universe Tutti che Attendono con ansia La presenza Del Daredevil Di Charlie Cox In Spider-Man No Way Home Anch'io sono uno di questi Ma questo film Shang-Chi Sarebbe stata Una fantastica occasione Per introdurre Dei personaggi Che abbiamo visto In Iron Fist Iron Fist Stesso Ma anche Colleen Wing Che Alla fine La seconda stagione Di Iron Fist Diventa lei L'Iron Fist Quindi sarebbe stato Molto figo Introdurre lei E sarebbe stato Anche molto figo Almeno un piccolo Accenno A La Mano Un'organizzazione Criminale Di Ninja Che è la stessa Che ha addestrato Elektra E che Daredevil Perennemente Combatte L'abbiamo vista Anche quella In Daredevil Seconda stagione E in Defenders Sarebbe stato Carino Sentire almeno Un accenno Alla mano Per esempio La Iron Gang Che uccide La madre Di Shang-Chi Poteva benissimo Essere La mano Sarebbe stato Comunque Un accenno Anche perché Non mi spiego In un impero Di 4000 anni Dei Dieci Anelli Come possa essere Sopravvissuta L'organizzazione Criminale Di Ninja Alla mano I Dieci Anelli L'avrebbero inglobata Però Vabbè Peccato Un'occasione sprecata Un'altra occasione sprecata Potevano appunto Nominare Kun Loon Luogo dove si è allenato A Iron Fist Senza per forza Introdurre Iron Fist Invece Vabbè Parlano comunque Di Talò Che è un luogo Che comunque C'è nei fumetti Marvel Nella storia di Shang-Chi Però Potevano Almeno Nominare Con glue Personaggi Asiatici Che hanno usato Si sono concentrati Semplicemente Su Wong Che l'abbiamo visto Anche nel trailer Combattere con Abominio Ha un po' più di spazio Anche nel finale Nella pellicola Allora Innanzitutto La scena con Abominio Bella visivamente Mi è piaciuto vedere Il design di Abominio Perfezionato Così come a suo tempo Avevano perfezionato Il design di Hulk Da L'incredibile Hulk Del 2008 All'incredibile Hulk Degli Avengers Del 2012 C'è stato un fantastico salto Di qualità Un miglioramento Nel design Qua hanno fatto Lo stesso miglioramento Del design Però È puramente estetica Perché Il combattimento È fine a se stesso E poi nella scena successiva Vediamo Wong E Abominio Che innanzitutto Si conoscono Quindi combattono Spesso assieme Lo chiama proprio Emil Emil Blonsky È il nome di Abominio E poi Soprattutto A fine incontro Non si detestano Sono come due avversari Che combattono Ma Abominio È un gran figlio Di puttana È vero che nel Marvel Cinematic Universe Si è limitato A essere un soldato E a iniettarsi Senza permesso Una versione Diciamo Rimescolata Del sangue di Banner Per diventare Abominio Poi Vabbè Non ha fatto cose Estremamente cattive È andato in prigione È uscito Quindi ci sta Però dovrebbe essere Abbastanza ossessionato Da Hulk Abbastanza ossessionato Da Banner Per essere considerato Una persona Da cui stare alla larga Se sei amico di Banner Invece vediamo Wong Che tranquillamente Instaura Un rapporto Di compagnone Sia con Abominio Sia con Banner Perché alla fine In una delle scene finali Vediamo Comunque Una sorta Di piccola cerchia Di illuminati Dove ci sono Wong Capitan Marvel E Bruce Banner E anche qui Bruce Banner Normale Cioè non trasformato In Hulk Non trasformato In Professor Hulk Ancora il braccio Totalmente distrutto Dallo schiocco Di dita di Thanos Ma è tornato Nella forma Banner Ma quindi Ma quindi era possibile Era una cosa Reversibile Tornare Nelle fattezze Di Banner Quindi era per sua scelta Che per tutta la durata Di Endgame È rimasto In quello stadio Io pensavo Che aveva unito Le due cose Ma era Una situazione Perenne Una situazione Perenne A cui lui aveva Accettato Di Di vivere Per Perché vivevano In tempi Molto strani E invece Qua sembra Che il processo Si sia Si sia Invertito Può essere Che lui Sia stato In una camera gamma Per altri sei mesi Per invertire Il processo Dal momento Che tutte le persone Sono state Riportate indietro Dopo il suo schiocco Quindi magari Aveva Ha chiuso Il capitolo Hulk Tornando umano Può essere anche Una cosa così Però Buttato lì così Senza spiegarlo Mi ha fatto molto strano Spero vivamente Che nella serie She-Hulk Spieghino questa cosa Perché se iniziano A non spiegarle cose E a buttarle dentro A cazzo Sono i primi segnali Che il Marvel Cinematic Universe Sta cedendo Quindi che dire ragazzi Scusate la recensione Lunghissima Un po' sfogo Ma ecco Il film Mi è piaciuto Con riserve Nel senso che Speravo di vedere Meno E speravo di vedere Un film Più Sulle arti Marziali Ho visto Un gran bel Minestrone Che ha aperto Le porte A tantissime Premesse Per il futuro Del Marvel Cinematic Universe Ma forse Ne ha deficitato Un po' La qualità Del film stesso Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questo film Scrivendemelo sotto Nei commenti Io come sempre Con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E vi dico Arrivederci Al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti